Mentre gli adulti oziano al sole pomeridiano, un killer a sangue freddo si sveglia. E la nostra beniamina ha attirato la sua attenzione. Un elafe carenato si dirige verso la piccola. Questo costrittore divora tutto quello che può stritolare. Viene lanciato l'allarme. Molte paie di occhi contribuiscono a mantenere le scimmie al sicuro. Che l'uogo ha l excited e super il cheicaria h valve! La l впер digita! L'uomo haoo! L'uomo haoo! Il fa più difficile loготовato.